Vediamo le caccolette all'occhio Si sente troppo ripeto Ciao a tutti, in questo secondo video passiamo all'ingrassaggio un passo fondamentale per la cura dei nostri finimenti ti mostreremo come proteggere e preservare la testiera del tuo cavallo assicurando che rimanga morbida e resistente Applichiamo un grasso per cuoio di alta qualità che penetri nel cuoio senza lasciarlo unto prestando particolarmente attenzione alle zone più soggette a usura I prodotti a base di ingredienti naturali come cera d'api e oli vegetali sono raccomandati per la loro capacità di nutrire il cuoio profondamente questo passaggio aiuta a mantenere il cuoio morbido e resistente Una pulizia più approfondita e l'applicazione di grasso dovrebbero essere effettuate regolarmente basandosi sulla frequenza d'uso e sulle condizioni ambientali Adesso rimontiamo la testiera prestando attenzione a ogni dettaglio per garantire che tutto sia al posto giusto Ricordiamoci di controllare che ogni parte sia allineata correttamente Un buon controllo finale assicurerà che i finimenti siano montati in modo sicuro e confortevole attenzione a tutti i video e anche a tutti i video Siamo insieme a tutti i video Grazie a tutti. Infine, assicuriamoci che la testiera sia completamente asciutta prima di riporla. Conservarla in un luogo asciutto e ventilato aiuta a prevenire la formazione di muffa e l'accumulo di umidità. Evitare la luce diretta del sole che può sbiadire il colore del cuoio e causarne la deformazione. Una pulizia leggera dopo ogni uso è l'ideale per rimuovere il sudore e lo sporco. Questo aiuta a prevenire l'accumulo di residui che potrebbero danneggiare il cuoio. Speriamo che questi consigli vi aiutino a mantenere i finimenti del vostro cavallo nelle migliori condizioni possibili. E se avete saltato la parte su come effettuare una pulizia approfondita, cliccate sulla scheda qui accanto per non perdere tutti i passaggi fondamentali. Grazie per aver seguito questo tutorial. Non dimenticate di lasciare un like, condividere il video e iscrivervi al canale per non perdere le prossime guide. Ciao!